Oggi parliamo di distretto scolastico digitale, di cosa si tratta? Prima di tutto una premessa, la città metropolitana è un'innovazione istituzionale che vuole far sì che alcuni territori possano correre velocissimamente e per correre velocissimamente ci vuole la fibra, quindi la città metropolitana è impegnata di Milano a realizzare una dorsale digitale per tutti i comuni e le scuole quindi questi comuni che oggi presenteranno le cose che stanno facendo sono dei battistrada per far sì che quell'autostrada digitale possa avere subito un vagone di servizi per i cittadini e per le scuole metropolitane quindi si tratta di questo, quello di applicare da subito nel territorio milanese la parte della buona scuola che è legata al distretto digitale, quindi all'uso dell'informatica per quanto riguarda la didattica.